ciao a tutti e ben ritrovati in queste landi misteriose cari miei io sono il custode di questo luogo oscuro ed anche oggi come faccio sempre vi accompagnerò in un posto lontano per raccontarvi un caso di cronaca nera e vi garantisco che quello di oggi è abbastanza intricato da farvi venire il mal di testa certo non come quello avuto dal malcapitato protagonista della storia ma gli intrecci sono diversi e i colpi di scena non mancano quindi mettetevi comodi e lasciate che vi racconti il caso di ben novak jr in realtà dobbiamo partire da lontano quindi da ben novak senior proprietario del famoso fontaine blue hotel di miami beach sin dal 1954 l'hotel delle star se così vogliamo chiamarlo frequentato da personaggi famosi e facoltosi ben era figlio di immigrati russi e dopo un matrimonio fallito si risposò nel 1952 con bernice stempel e i due ebbero un figlio nel 1956 ben novak jr o benji colui che sarà uno dei protagonisti di questo video una volta diventato grande ovviamente la storia del lussuoso fontaine blue in realtà non è proprio tutta rose e fiori infatti andò in banca rotta nel 1978 e venne acquistato da altri proprietari ma nonostante questo la famiglia novak rimase molto ricca ben novak morì per un arresto cardiorespiratorio nel 1985 a lui sopravvissero la moglie bernice e il figlio ben junior almeno fino al 2009 24 anni dopo quando a benji successe qualcosa di poco piacevole ironia della sorte in un hotel a west chester new york era il 12 luglio e ben junior aveva da poco compiuto 53 anni venne ritrovato con i polsi legati dietro la schiena con del nastro adesivo imbavagliato a terra ah era morto ovviamente ma in aggiunta a questo un ulteriore dettaglio a dir poco macabro caratterizzava la scena del crimine gli erano stati strappati via gli occhi gli investigatori giunsero alla conclusione che chiunque lo avesse aggredito e legato avesse operato sul letto e credetemi se vi mostrassi la fotografia del materasso che comunque si trova su internet anche voi giungereste alla stessa conclusione visto che era più rosso che bianco la causa della morte fu determinata in strangolamento ciò significa che quanto meno l'orribile scempio che venne fatto del suo cadavere avvenne dopo il decesso fu la moglie nersi a ritrovarlo in quelle condizioni dopo essere scesa a fare colazione attorno alle 7 del mattino mentre lui era rimasto a dormire la coppia risiedeva nel sud della florida ed era in new york per una conferenza nella stanza in cui benji venne ritrovato c'erano molti gioielli e la maggior parte di questi non era stata portata via non c'era più un braccialetto dell'uomo in oro con il suo nome inciso in diamanti penso abbiate capito di cosa parlo perché credo che ognuno di noi ne abbia uno ma per il resto gli altri oggetti di valore erano al proprio posto quindi fu difficile catalogarla come rapina o come altro ma c'era qualcuno che lo voleva morto facciamo una piccola panoramica sulla sua persona i suoi genitori erano molto conosciuti come detto proprietari del fontaine blue e affiancati spesso da numerose celebrità come jfk elvis presley e frank sinatra ben junior era in realtà molto diverso da loro meno socievole più scontroso e non particolarmente piacevole aveva sposato nersi nel 1991 lei era una ex ballerina con una figlia avuta da una precedente relazione e veniva dall'ecuador era di umili origini ma imparò ben presto cos'è la bella vita visto che suo marito era multimilionario lo aiutava negli affari e lo seguiva in tutte le conferenze le quali ben partecipava cosa facessero di cosa parlassero a queste conferenze poi non saprei ma immagino che quando hai soldi che lavorano per te sia una specie di passatempo con loro c'era spesso anche la figlia di nersi may abad la ragazza era con loro anche a new york quando ben venne assalito e ridotto in quel modo nella sua camera d'albergo le modalità delle esecuzioni apparvero subito strane quando nersi aveva lasciato la stanza ben gera vivo pochi minuti prima delle sette infatti aveva parlato con la reception 40 minuti dopo nel momento in cui nersi rientrò in stanza non lo era più la cosa curiosa è che la porta della loro camera non era stata forzata la chiave elettronica dimostrò come l'ultimo utilizzo risalisse alla notte precedente quando i due erano rientrati o meglio il penultimo l'ultimo era ovviamente quello delle 7 40 quando nersi era risalita dopo aver fatto colazione quindi o l'assassino era con loro in stanza oppure la porta non era stata chiusa da nersi quella mattina quando era scesa nella hall considerando che dalle analisi autoptiche risultò che benji dormiva nel momento in cui fu ucciso non risultava possibile o quantomeno probabile che fosse stato lui a far entrare qualcuno in quei 40 minuti insomma un giallo degno di tal nome nersi venne ovviamente ascoltata dagli inquirenti e raccontò la sua versione dei fatti di come aveva ritrovato il marito riverso a terra in quelle condizioni una volta rientrata in camera sostende che con ogni probabilità avesse lasciato la porta semi aperta o comunque non l'avesse chiusa bene per questo motivo quindi chiunque sarebbe potuto entrare e commettere quell'efferato delitto c'è una cosa che dovete sapere di benji era un tipo particolare per quanto riguarda i gusti sessuali e gli piaceva nello specifico il sadomaso il modo nel quale era stato ritrovato quindi poteva anche non essere un caso inoltre da buon milionario che si rispetti si era anche concesso qualche scappatella forse era stato vittima di un amante particolarmente focosa che voleva vendicarsi per qualcosa ironia della sorte anche se la sorte c'entra davvero poco a bennova che era accaduto una cosa simile diversi anni prima nel 2002 quando subì un'intrusione in casa e venne legato per ben 25 ore quella volta salvò occhi e vita perdendo appena 400 500 mila dollari il fatto è che benji rimase convinto nelle settimane nei mesi a seguire che quella rapina fosse stata orchestrata da sua moglie nonostante questo non sporse denuncia e rimase sposato con lei comportamento surreale ma tant'è di certo il denaro non gli mancava comunque e nemmeno le donne il matrimonio tra i due a dire il vero era stato sempre molto strano e i fatti avvenuti nel 2009 non fecero che aggiungere stranezza a tutto il resto in quel periodo tra l'altro benji frequentava una donna di nome rebecca bliss e non si trattava di una cosa da poco andava avanti da due anni e forse aveva finalmente deciso di separarsi da nersi e iniziare una nuova vita con rebecca il divorzio però rappresentava un bel problema per lei visto che c'era un accordo prematrimoniale tra i due e nersi in caso di separazione si sarebbe dovuto accontentare di appena 65 mila dollari un'inezia si era portata al capitale di ben novak ovviamente se gli fosse capitato qualcosa le cose sarebbero andate molto diversamente e lei avrebbe ereditato una fortuna soldi e gelosia nove volte su dieci questo genere di crimini sono compiuti per questioni attienti a tali fattori e gli inquirenti si convinsero ben presto che l'omicidio di benji novak non facesse eccezione sentita dalla polizia rebecca bliss disse che nersi aveva cercato anche di comprarla le avrebbe dato diecimila dollari se fosse sparita dalla vita di benji lei ovviamente rifiutò magari ne era davvero innamorata per carità ma diecimila dollari rapportati alla ricchezza dei novak erano davvero pochi riferì comunque una cosa interessante una frase detta gli da nersi se lei non poteva avere benji nessun'altra lo avrebbe avuto diciamo quindi che il perché di questo crimine cominciava ad essere piuttosto chiaro restava da scoprire il come e il chi visto che nersi non poteva aver fatto nulla a suo marito quella mattina si scavò così sulla storia della famiglia novak e sugli attuali componenti della stessa anche se a dire il vero non c'era molto da scavare la madre di benji bernice novak era tragicamente scomparsa tre mesi prima nell'aprile del 2009 a causa di una caduta accidentale l'uomo le voleva molto bene si sentivano spesso l'altro membro della famiglia era la figlia di nersi meia bad so che molti di voi staranno sospettando anche di lei ma in realtà la ragazza andava d'accordo con benji lo considerava una figura paterna e un punto di riferimento non andava invece affatto d'accordo con la madre nersi tanto che le due spesso litigavano e venivano anche alle mani e questo l'accomunava la defunta bernice in quanto anche lei non andava per niente d'accordo con la moglie di suo figlio c'erano quindi molti segnali di allarme che puntavano tutti in un'unica direzione ma di prove che nersi potesse aver architettato l'omicidio del marito non ce n'erano almeno fino al decimo giorno successivo al delitto quando la polizia ricevette una lettera anonima in spagnolo che accusava esplicitamente nersi di avere molto a che fare con la morte di ben novak e non accusava soltanto lei ma anche suo fratello cristobal veliz l'uomo era un autista di autobus a filadelfia e ovviamente la polizia andò a fargli visita va da sé che lui negò qualsiasi coinvolgimento ma mentre erano a casa sua a parlare con lui gli agenti sbirciarono tra le sue carte che peraltro erano in bella vista su una scrivania e c'erano parecchie bollette contabili pagamenti e bonifici in particolare un nome attirò la loro attenzione quello di aleandro garcia che aveva ricevuto una discreta somma di denaro dallo stesso cristobal aleandro aveva una carriera criminale non indifferente così gli inquirenti si chiesero se le cose potessero essere collegate magari era stato lui quel giorno a uccidere ben ginovac su commissione così ripassarono i video delle telecamere di sorveglianza dell'hotel nei giorni precedenti al delitto e effettivamente due giorni prima videro proprio aleandro garcia nella hall assieme a un suo amico joel gonzalez e visto che la sua presenza lì sarebbe stata una combinazione decisamente troppo grossa cominciarono a tracciare i suoi conti bancari e le sue telefonate quattro mesi dopo l'omicidio la polizia interrogò aleandro e joel dopo qualche reticenza iniziale i due crollarono raccontando una storia che combaciava quasi alla perfezione con la teoria che loro avevano elaborato in merito ai fatti del luglio 2009 nersi aveva paura che ben le chiedesse il divorzio avrebbe così perso tutto niente più bella vita niente più soldi se non gli spiccioli che avrebbe ottenuto a causa dell'accordo prematrimoniale così con l'aiuto del fratello cristabal contattò due sicari del florida aleandro e joel i quali si recarono presso l'hotel di new york un paio di giorni prima della conferenza qui nersi fece in modo di indicargli in modo chiaro chi fosse il loro obiettivo e i due agirono il 12 luglio nersi lasciò la porta della camera aperta e mentre lei era a fare colazione suo marito veniva legato e ucciso a letto ah la storia degli occhi cavati fu proprio un'idea della moglie per il lavoro i due ottennero 15 mila dollari più una cospicua mancia avendolo portato a termine nel migliore dei modi nel luglio del 2010 a un anno esatto dai fatti nersi e cristabal vennero arrestati ed accusati di cospirazione ed omicidio relativamente a ben novak e non solo sì perché ricordate la povera madre di benji morta per una caduta accidentale riaprendo le indagini venne fuori che non si fosse trattato di un incidente visto che il corpo della donna era pieno di fratture forse avrebbero dovuto immaginarlo fin dall'inizio aleandro e joel nella loro confessione e previo accordo con la giustizia ammisero di essere stati loro a massacrarla con una chiave inglese sempre su indicazione di nersi e del fratello quindi un'altra accusa di omicidio si sommò la precedente il piano di base era abbastanza chiaro benji avrebbe ereditato dalla madre e poi nersi avrebbe ereditato da benji il processo iniziò a new york nel 2012 in ballo c'era la pena di morte per i due cospiratori aleandro e joel ovviamente testimoniarono contro di loro la difesa cercò di screditarli in tutti i modi senza grosso successo durante le udienze venne inoltre rilevato come nersi avesse un telefono segreto e che quel numero contattò aleandro alle 6 e 39 della mattina del 12 luglio 2012 il segnale che era tempo di agire mentre gli assassini portavano a termine il lavoro lei cercò di farsi vedere da diverse telecamere dell'hotel in modo da avere un alibi nel disperato tentativo di confondere le carte in tavola la difesa di nersi e cristobal arrivò a insinuare che il piano di uccidere ben novak era in realtà stato architettato da un'altra persona meia bad la figlia di nersi c'era lei dietro quel sanguinoso delitto che razza di madre penserete ok non andavano d'accordo si erano pure prese a schiaffi ma addirittura incolpare la propria figlia di omicidio per cercare di salvarsi le chiappe è davvero troppo ebbene vi sbagliate perché c'è sempre di peggio ed infatti aleandro durante una delle sue testimonianze disse che meia bad era la prossima sulla lista gli avevano già consegnato la foto e sarebbe dovuta essere la sua successiva vittima nessi e cristobal veliz vennero ritenuti colpevoli per l'omicidio di benji e bernice novak ergastolo per loro senza possibilità di libertà condizionata garcia e il suo compare vennero invece condannati rispettivamente a 17 anni e 6 mesi e a 10 anni di carcere un po poco per aver pestato a morte due persone infierito su uno dei due cadaveri ma questo prevedeva l'accordo d'altronde senza le loro testimonianze sarebbe stato molto più difficile provare la colpevolezza di nersi e cristobal un'ultima chicca su questo caso prima di chiudere avete presente la lettera anonima scritta in spagnolo dalla quale in pratica sono partite le indagini che hanno portato alla risoluzione del caso ebbene venne fuori che a scriverla era stata la sorella di nersi e cristobal se lo abbia fatto per coscienza o perché era stata tagliata fuori dalla divisione del malloppo questo non so proprio dirvelo ciao a tutti e ben ritrovati in queste lande oscure io sono marco e anche oggi vi racconterò un caso di true crime sperando di farvi cosa gradita nel qual caso vi invito a mettere un like dando per scontato che siete iscritti al canale in caso contrario rimediate a questa enorme pecca e cliccate l'apposito pulsante in basso a destra per il caso di oggi facciamo un salto in kentucky nella contea di trig e ancora più nello specifico a cadiz 15.000 abitanti campi e aree rurali in abbondanza piccola curiosità fino al referendum del 2009 a cadiz non esistevano alcolici quindi immagino si festeggiasse l'arrivo di ogni anno con un bel bicchiere d'acqua tutta vita ma i fatti che sto per raccontarvi sono più recenti si sono svolti nel 2014 per fare questo devo introdurvi la famiglia champion trasferitasi nella contea di trig a cavallo degli anni 50 aveva tradizioni contadine e le tradizioni vennero trapiantate in kentucky l'inzei champion e sua moglie joy si erano conosciuti alle superiori e da allora erano rimasti sempre insieme lui lavorava in ambito agricolo mentre lei faceva l'insegnante per anni avevano tentato di avere un figlio senza grosso successo così nel 1978 adottarono il piccolo ryan che all'epoca aveva appena tre mesi cinque anni dopo accadde però l'impensabile quando la coppia pensava ormai di non poter più generare un figlio in modo naturale joy rimase incinta e nove mesi dopo diede alla luce emily i champion erano una famiglia molto semplice religiosa dedita al lavoro e famiglia l'inzei divenne direttore presso il centro agricolo nel quale lavorava mentre joy venne eletta insegnante dell'anno nel 2008 ryan e emily dal canto loro ebbero un'infanzia tranquilla caratterizzata dalle tipiche rivalità tra fratelli nel caso specifico visto che uno dei due era adottato e l'altra no immagino che queste dinamiche risultarono un po più accentuate ryan si arruolò poi nell'esercito dove rimase per ben dieci anni prima di tornare in kentucky a hawk grove che distava appena 30 minuti da cadiz e dalla residenza dei suoi familiari emily invece andò all'università di oburn e divenne veterinaria i cavalli la sua specializzazione le piacevano sin da piccola visto che i suoi genitori ne avevano diversi e finì quindi a lavorare in louisiana presso un ipodromo nel frattempo l'inzei e joy erano andati in pensione si godevano il meritato riposo nella loro residenza di cadiz arriviamo così a ottobre 2014 emily era tornata a casa dei suoi genitori per passare un paio di giorni con loro a novembre avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro e non sapeva quanto sarebbe potuto tornare di nuovo partecipò a una maratona tenutasi in zona e la domenica restò a dormire a casa mentre i suoi genitori si recarono a una funzione religiosa era il 26 di ottobre quella domenica i champion avrebbero preparato il pranzo e trascorso la giornata con i loro figli ma le cose non andarono così alle 11 una vicina di casa che era anche la sorella di l'inzei lisa champion udì numerosi colpi di arma da fuoco passarono solo pochi istanti e sentì anche dei violenti colpi alla porta quando andò ad aprire si trovò di fronte sua nipote ryan champion con in mano una pistola e di polsi avvolti dal nastro adesivo le disse di chiamare il 911 la storia che raccontò mentre si recava con la zia presso la sua abitazione versione che avrebbe poi ripetuto anche gli inquirenti fu che mentre stavano preparando da mangiare un uomo era entrato in casa ed aveva cominciato a sparare la stessa lisa champion poteva vedere i risultati di quanto accaduto una volta accompagnata da ryan presso l'abitazione del fratello lindsay 62 anni joy 60 ed emily 31 erano morti tutti conferite d'arma da fuoco i cadaveri di lindsay e joy erano nei pressi dell'entrata mentre quello di emily all'interno la donna aveva i posti legati con del nastro adesivo e due fuori di proiettile alla testa ma i morti non erano tre in casa c'era un quarto cadavere che sul momento la polizia a corsa sul luogo non riuscì a identificare per farlo dovettero ascoltare la storia di ryan in merito ai fatti di quel giorno era sul divano a guardare la tv con sua sorella cercando di approfittare della sua presenza in città visto che i due si vedevano poco a quel punto udirono dei rumori provenienti dall'ingresso pensando che si trattasse dei genitori di ritorno dalla chiesa in realtà non erano loro un uomo di nome vito riservato un ragazzo in realtà si era introdotto in casa senza essere invitato con una pistola in mano e del nastro adesivo ryan lo conosceva appena disse di averlo incontrato qualche giorno prima e che l'uomo si era follemente infatuato di sua sorella emily li legò entrambi col nastro adesivo poco dopo i champion rientrano davvero e vito udita l'auto all'esterno si diresse all'ingresso e lì esplose diversi colpi di pistola uccidendoli proprio mentre stavano rientrando poi tornò dai due fratelli legati fece la stessa cosa con emily sparando le due volte la testa ryan sarebbe stato il suo successivo obiettivo ma in qualche modo era riuscito a liberarsi del naso adesivo che gli legava i polsi e scagliarsi contro vito dopo una breve colluttazione gli aveva strappato via la pistola di mano sparandogli due colpi e uccidendolo vito aveva 22 anni nato a las vegas in nevada si era trasferito a hopkinsville già da un po lì si era diplomato e viveva con suo figlio di appena un anno sua moglie o meglio la sua ex moglie visto che i due si erano già separati viveva invece a bardstone vito non aveva alcun precedente ed era conosciuto come un onesto lavoratore quindi apparentemente ciò che aveva fatto era privo di senso ma quali collegamenti c'erano tra lui e la famiglia champion e soprattutto come li conosceva ryan dopo aver preso congedo dall'esercito svolgeva alcuni lavori in ambito residenziale e di costruzioni e di recente aveva assunto vito riservato tre giorni prima della sparatoria lui e ryan erano passati presso la residenza dei champion a cadiz ed era stato allora che vito aveva incontrato emily la detta di ryan aveva pronunciato alcune frasi inappropriate nei confronti della sorella e così lui aveva deciso di licenziarlo quello stesso giorno con ogni probabilità questo aveva spinto vito a vendicarsi cercando di sterminare l'intera famiglia l'aveva presa bene insomma indagando su di lui e facendo domande a suo coinquilino la polizia venne a sapere che effettivamente aveva perso il suo precedente lavoro tre settimane prima ed aveva qualche problema a pagare affitto e bollette inoltre il giorno degli omicidi quando era uscito di casa molto presto si era comportato in modo a quanto strano aveva detto che sarebbe tornato in un paio d'ore lasciando il telefono a casa ma poi come sappiamo non era mai tornato ma ci fu un'altra cosa interessante che il coinquilino riferì ryan champion aveva rilasciato un'intervista dove raccontava più o meno quello che era successo in quella casa il 26 di ottobre aggiungendo che lui e la sua famiglia conoscevano vito da appena qualche giorno da quando cioè lo aveva assunto per dei lavori ebbene il coinquilino di vito disse che non poteva essere vero in quanto il nome di ryan era saltato fuori diverse volte nel corso di alcune conversazioni e vito si riferiva a lui come un amico insomma i due si conoscevano da molto tempo non si erano incontrati da poco per un semplice rapporto di lavoro cosa ancora peggiore al suo coinquilino vito aveva confessato una cosa terribile la settimana precedente qualcuno gli aveva promesso un ingente somma di denaro per uccidere delle persone e così gli inquirenti rielaborarono tutta la storia raccontata da ryan e trovarono parecchie incongruenze dal numero di colpi sparati al fatto che lui avesse detto di essere stato legato per primo mentre da un'analisi sul nastro adesivo usato per immobilizzarlo si evinceva che fosse stato legato per ultimo ryan fu ascoltato nuovamente dalla polizia e le sue risposte non dovettero essere molto soddisfacenti infatti venne arrestato con l'accusa di essere stato lui a commettere i quattro omicidi ciò avvenne due giorni prima del funerale della sua famiglia pensavano fosse stato lui ma ancora non ne conoscevano il motivo anche se i sospetti di un piano organizzato per eliminare la sua famiglia considerando la presenza di vito erano molto forti sospetti che vennero confermati quando un testimone che viveva a oak grove città dove ryan risiedeva disse di aver visto lui vito e una donna mangiare assieme in un locale della zona il tutto venne confermato dalle telecamere interne del locale stesso era una chiara conferma che ryan e vito si conoscessero bene e non si fossero incontrati appena due giorni prima degli omicidi ma ciò introdusse nel puzzle un ulteriore pezzo chi era la donna con loro ebbene si chiamava ann plotkin il suo ruolo in questa brutta faccenda sarebbe stato quello di filtro tra ryan e vito conosceva il secondo perché sua figlia aveva avuto una relazione con lui e lei stessa ne aveva una con ryan inoltre avrebbe dovuto rilasciare interviste e dichiarazioni alla stampa sempre golosa di informazioni sulle persone coinvolte quando si tratta di omicidi nelle quali avrebbe ribadito quanto ryan fosse un bravo ragazzo e non avrebbe mai fatto nulla di male alla sua famiglia le tracce telefoniche furono chiare ryan e vito non si contattavano mai direttamente ma sempre con il tramite di n cosa che alla fine ha avuto la stessa utilità di un due a briscola inoltre quando finì sotto la lente degli investigatori n cancellò tutti i messaggi dal cellulare attività che ovviamente la rese ancor più sospettata tanto più che quei messaggi poterono essere recuperati se n conoscessi il reale piano di ryan non è dato sapersi perché in quello programmato dai tre sarebbe stato vito a dover uccidere i genitori e la sorella di ryan ricevendo in cambio una somma di denaro ovviamente lui non aveva mai sparato in vita sua e non aveva dimestichezza con le armi a differenza di ryan che come detto era stato nell'esercito se quel giorno vito sarebbe andato fino in fondo o meno non lo sappiamo perché ryan champion portò avanti un piano di riserva chiamiamolo così quando vito arrivò presso la casa dei suoi genitori uccise lui emily lindsay e joy fingendo poi di essere stato legato con del nastro adesivo dal quale si era liberato riuscendo a sopraffare l'incursore storia che come detto venne smontata e non ebbe miglior fortuna di quello che probabilmente avrebbe dovuto essere il piano originale ammesso che usare vito come colpevole per poi disfarsi di lui non fosse stato l'unico piano sin dall'inizio ryan odiava la sua famiglia non era soltanto una questione finanziaria visto che non se la passava benissimo e con i suoi parenti morti avrebbe ereditato tutto era geloso di emily e del fatto che secondo lui i suoi genitori l'avessero sempre favorita in quanto figlia naturale una sua ex fidanzata testimoniò dicendo che ogni volta che parlava della sua famiglia cambiava umore ed aveva esplosioni di rabbia anche sua zia lisa confermò che l'uomo dimostrava spesso di essere geloso della sorella e di non sopportare l'idea che lei fosse un successo agli occhi dei suoi genitori mentre lui un fallimento visto che non riusciva a tenersi un lavoro di recente inoltre i champion avevano manifestato l'idea di ristrutturare casa e ryan si era proposto per il lavoro visto che era nel settore in quel periodo ma i suoi genitori rifiutarono l'offerta sostenendo che avesse troppa poca esperienza per un lavoro così complesso forse quello fu l'ultimo affronto che portò ryan a decidere che tutti dovessero morire al processo inizialmente si dichiarò non colpevole ma siamo in kentucky dove vige la pena di morte che viene risparmiata quando l'imputato ammette le proprie responsabilità e così in un secondo momento precisamente l'8 dicembre del 2016 ryan champion si dichiarò colpevole di tutti e quattro gli omicidi fu condannato al carcere a vita senza possibilità di libertà condizionata nel 2017 en plotkin si dichiarò anch'essa colpevole di complicità negli omicidi e venne condannata a 22 anni di carcere richiese però la libertà vigilata un paio d'anni dopo il 7 febbraio 2019 per seri problemi di salute ma la domanda venne rigettata en morì il giorno successivo 8 febbraio 2019 all'età di 45 anni nonostante rimangano alcuni punti oscuri sulla vicenda la ricostruzione dei fatti ha portato alla luce il goffo quanto spietato piano di ryan che probabilmente aveva covato del risentimento per tutta la vita nonostante chiunque conoscesse la famiglia champion sosteneva che lindsay e joy amavano entrambi i loro figli senza distinzioni soldi e risentimento e tutto ciò che si può ipotizzare in quanto ryan pur dichiarandosi colpevole non ha mai specificato i motivi delle sue azioni né l'esatta dinamica degli eventi segreti che moriranno con lui dietro le sbarre che il mio saluto vi giunga in qualunque posto vi troviate cari amici del crime questa è la zona oscura come ben sapete e se non lo sapete che dire sappiatelo ed iscrivetevi al canale cliccando sull'apposito bottoncino rosso sangue oggi tratteremo un caso che avrà come protagonista una ragazza con interessi molto simili ai nostri anzi direi che il crimine per loretta saunders era qualcosa di più di un semplice interesse al quale dedicare del tempo libero visto che aveva deciso di intraprendere un percorso di studi e professionale in questo ambito quello che le accadrà non sarà di simile da tanti casi studiati e analizzati nei minimi dettagli all'università e con il caso di oggi voglio riproporvi le tappe della vicenda che l'hanno vista protagonista nel febbraio di quasi nove anni fa siamo in canada nuova scozia per la precisione febbraio 2014 loretta saunders era una ragazza di 26 anni originaia di goose bay figlia di miriam tariak e clayton saunders nativi del luogo loretta era la quinta di cinque figli due dei quali la madre miriam aveva avuto da una precedente relazione nonostante la famiglia saunders fosse già piuttosto ampia non mancava di ospitare spesso nella propria dimora altri bambini per lo più indigeni e senza tetto con problemi di vario genere questa attenzione nei confronti dei nativi aveva sempre contraddistinto la vita di miriam e clayton e venne in qualche modo tramandata anche ai loro figli loretta era una ragazza molto aperta e ambiziosa sognava di diventare un avvocato oppure un detective insomma una professione che le permettesse di aiutare chi si trovava in difficoltà o comunque di rendere un servizio utile al proprio paese la sua adolescenza fu però contraddistinta da un evento che le creò alcuni problemi scolastici questioni di bullismo probabilmente fatto sta che un giorno i genitori di loretta vennero chiamati dalla scuola perché a quanto pareva la ragazza aveva colpito un suo compagno di classe dall'indagine interna salto fuori che questi gli avesse toccato i segni e che vi fossero verosimilmente stati altri comportamenti non consoni nei suoi confronti in precedenza fatto sta che i suoi genitori decisero di iscriverla in un'altra scuola non si sa molto delle dinamiche familiari e dell'impatto che questi eventi ebbero su di lei che era ancora una ragazzina a quel tempo fatto sta che dopo un po' loretta decise di volersene andare a montreal per cominciare una vita per conto suo nella capitale le cose furono decisamente più complicate di quanto la ragazza avrebbe potuto immaginare e ben presto si ritrovò per strada per giunta in quel periodo iniziò anche a far uso di alcol e sostanze stupefacenti questa vita andò avanti per ben due anni ho cercato qualcosa di più in rete su questo periodo buio della sua vita senza però trovare nulla mi sembra infatti strano che i suoi genitori sempre pronti ad aiutare indigeni bambini e persone in difficoltà non abbiano trovato il modo di aiutare una figlia che si stava perdendo forse è stata lei a non permetterglielo ma non avendo adeguati informazioni relative a quegli anni non credo sia opportuno farsi troppe domande alle quali sarebbe complicato trovare una risposta dentro di sé comunque loretta sapeva che quella non era la vita alla quale era destinata i suoi sogni e le sue aspirazioni erano probabilmente ancora vive in lei nascosti ma pronti a tornare in superficie e così riuscì in qualche modo a venire fuori da quella brutta situazione tornò a goose bay e riprese gli studi facendo turni di notte per mantenersi in quel periodo era facile vederla un po giù e poco reattiva ma le cose migliorarono col tempo e possiamo dire che tornarono alla normalità iniziò ad interessarsi anche alle origini della sua famiglia ai nativi e agli indigeni studiandone tradizioni e cerimoniali in quel periodo si trasferì con sua sorella de laila ad halifax sempre in nova scozia dove cominciò a studiare sociologia e criminologia ironia della sorte che a breve le avrebbe fatto visita si specializzò specificamente in omicidi e scomparse di donne indigene canadesi un percorso che avrebbe voluto portare avanti anche successivamente alla laurea nel novembre del 2013 sua sorella de laila si trasferì in british columbia per andare avanti con la sua vita e i suoi progetti lasciando l'oretta ai suoi studi la ragazza si era ormai ripresa completamente a quel tempo quindi non aveva più bisogno di qualcuno che le fosse vicino per ogni possibile evenienza anche se lo avrebbe trovato a breve appena un mese dopo rimase incinta del suo ragazzo yelchin i due avevano una relazione sana e felice programavano già di andare a vivere insieme ma quell'evento spinse l'oretta a trasferirsi definitivamente da lui i problemi non erano però terminati per lei nello specifico questa volta erano di natura finanziaria i soldi scarseggiavano e le bollette andavano pagate e anche l'università ovviamente decise così di affittare l'appartamento che un tempo divideva con sua sorella quando questa era ancora in città trova una coppia in cerca di casa su kajiji un sito molto famoso in canada dove domanda e offerta si incontrano senza che vengano stilati accordi ufficiali insomma dei subaffitti parecchio alla buona ma decisamente più rapidi che verosimilmente permettono di evitare parecchie pratiche burocratiche riguardo all'affitto di appartamenti i due nuovi affittuari si chiamavano blake leggett di 25 anni e victoria anebri di anni 28 la coppia si trasferì nel gennaio del 2014 concordando un canone di 400 dollari al mese blake e victoria però non saldarono neppure il primo mese passarono giorni e poi settimane senza che si prendessero la briga di pagare il dovuto e la pazienza di loretta iniziò a vacillare così il 13 di febbraio comunicò suo fidanzato che sarebbe passata alla sua vecchia residenza per richiedere quanto le era dovuto quella mattina alle 10 57 le telecamere all'ingresso del complesso di appartamenti dove blake e victoria vivevano immortalarono loretta mentre entrava dirigendosi verso gli ascensori aveva detto che sarebbe tornata a casa presto ma il suo fidanzato attese diverse ore senza che la ragazza desse notizie di lei inizialmente non diede troppo peso alla cosa pensando che avesse avuto altri impegni dei quali si era dimenticata cambiò per atteggiamento più tardi nel pomeriggio quando ricevete da lei degli stranissimi messaggi sono così stressata ho bisogno di soldi ma non riesco più ad accedere alla banca non ricordo neppure il secondo nome di mia madre questo più o meno il testo del messaggio che non venne ricevuto soltanto dal suo fidanzato ma anche da altri membri della sua famiglia e questo indubbiamente fu un segnale molto allarmante non per i motivi che si sarebbero poi rivelati quelli reali il fatto è che abbiamo già detto dei problemi che loretta aveva avuto in passato della sua dipendenza da alcol e metanfetamine ricevendo quella serie di messaggi apparentemente assurdi i suoi familiari temettero che avesse avuto una ricaduta o qualcosa del genere inoltre il fatto che non avesse contattato per giorni il padre clayton apparve ancora più strano visto che erano molto legati così il 17 febbraio dopo diversi giorni senza avere sue notizie se non quegli strani sms la sua scomparsa venne denunciata alle autorità anche in questo caso non so il motivo per il quale abbiano atteso così tanto forse pensavano davvero che se ne fosse andata di sua iniziativa ci sono indubbiamente alcune stranezze nei rapporti familiari ed affettivi di loretta ma di sicuro non hanno nulla a che fare con questa vicenda e con quello che sarebbe stato scoperto poi il punto di partenza delle indagini fu di facile individuazione il vecchio appartamento della ragazza ad halifax yelchin non sapeva nulla dei nuovi inquilini loretta aveva fatto tutto da sola sul sito di kajiji e ci volle qualche ora per poter risalire ai nomi delle due persone che avevano occupato l'appartamento nell'ultimo mese blake leggett e victoria anebri che però erano improvvisamente spariti dal giorno di san valentino la polizia ebbe accesso al conto di loretta e venne constatato come la sua carta di credito fosse stata usata diverse volte dal giorno della sua sparizione una di queste risultò di particolare interesse si trattava di acquisti di cibo e bevande fatte il 13 febbraio alle 17 circa presso un locale negozio della catena tom hottons le telecamere inquadrarono la toyota blu di loretta effettuare il drive-thru nell'area dedicata all'acquisto e all'interno si vedevano due persone le immagini erano troppo sgranate per capire chi fossero ma sicuramente la ragazza non sarebbe stata sola se fosse stata lei la persona al volante fortunatamente da una telecamera interna la visuale risultò molto più chiarificatrice al volante c'era un uomo bianco con la testa rasata descrizione che combaciava con quella di blake leggett al suo fianco una donna con un cappotto blu non si riuscì a capire chi fosse ma per fortuna la toyota venne immortalata anche da un'altra telecamera presso un supermercato poco lontano ne era scesa una donna con un cappotto blu ripresa anche dalle telecamere interne del negozio e sicuramente vista la stazza e il colore dei capelli non era loretta nessun'altra notizia arrivò in merito alle due persone in possesso dell'auto della ragazza e dopo circa una settimana dalla sparizione venne indetta una conferenza stampa affinché la sua scomparsa divenisse di dominio pubblico sperando che qualcuno avesse informazioni per aiutare la polizia vennero appesi centinaia di volantini ad alifax e nei dintorni ma un indizio importante che avrebbe potuto dipanare la matassa arrivò dai confini con gli stati uniti a circa 2000 miglia di distanza la polizia di harrow ricevette una chiamata di un uomo che sosteneva di aver visto una toyota blu parcheggiata in un'area non molto distante di fronte a un'abitazione in effetti poteva non essere un grande indizio visto che di toyota blu ne esistono davvero molte ma la sorte fu generosa almeno in questa circostanza la polizia accertò che la targa di quell'auto fosse effettivamente quella che stavano cercando si trattava davvero dell'auto di loretta all'interno della proprietà c'erano due persone che corrispondevano alla descrizione dei due soggetti immortalati in precedenza dalle telecamere di sorveglianza e vennero arrestati immediatamente era il 18 febbraio del 2014 furono poco dopo identificati come blake leggett e victoria anebri inizialmente non essendovi prove che avessero fatto qualcosa a loretta vennero trattenuti solamente con l'accusa di furto d'auto e carta di credito i due sostenono di aver acquistato la toyota dalla ragazza in quanto volevano recarsi ad arro per visitare degli amici ma i loro alibi erano in parte discordanti e oltretutto il telefono di loretta venne trovato nella borsa di victoria per tacere della carta di credito usata per fare spesa senza curarsi troppo del fatto che non fosse la loro furono però le riprese delle telecamere poste nel complesso di appartamenti dove blake e victoria vivevano a svelare la verità le stesse che la mattina del 13 febbraio poco prima delle 11 avevano immortalato loretta a entrare all'interno e prendere l'ascensore per recarsi dagli inquilini e chiedere che pagassero l'affitto dalle stesse telecamere poco prima delle 15 poterono osservare blake uscire dalla porta dell'ascensore e poi dall'entrata principale trasportava un grosso borsone che sembrava davvero molto pesante poi rientrò e risalì poco più tardi lui e victoria scesero assieme con altri bagagli e borse pronti ad uscire per non tornare mai più ma senza conoscere il contenuto di quel borsone soltanto ipotizzato l'unica cosa che gli inquirenti poterono fare fu continuare a interrogare i sospetti sperando che confessassero o quantomeno si tradissero in merito alla possibile localizzazione della borsa i dubbi che i due avessero fatto qualcosa di orribile nei confronti di loretta erano ormai quasi completamente fugati tanto più che sul cellulare di blake venne addirittura trovato un video nel quale lui e victoria discutevano se fosse il caso di uccidere la ragazza e quando era stato registrato qualche giorno prima della scomparsa di loretta e l'uomo non si era neppure premurato di cancellarlo sarebbe servito a poco ma questo particolare ci illustra chiaramente con quali soggetti abbiamo a che fare e purtroppo anche quelli con i quali loretta si trovò da sola il 13 febbraio del 2014 nella sua inutile quanto controproducente richiesta di pagare l'affitto mentre blake continuò imperterrito a professare la sua innocenza a discapito delle schiaccianti prove che puntavano il dito verso di lui victoria rimase molto più titubante tanto che gli investigatori compresero che era su di lei che dovevano insistere per ottenere una confessione e il luogo nel quale avevano abbandonato quello che a questo punto veniva individuato come un probabilissimo cadavere la donna in effetti crollò e disse che era stato blake a compiere materialmente il delitto il bursone con il cadavere al suo interno era stato nascosto tra la neve in una strada a nord di sasbury dove in quel periodo dell'anno venera in abbondanza l'autopsia avrebbe poi rivelato che la ragazza era morta per asfissia il che trovò conferme con le dichiarazioni di victoria e col suo resoconto di come si erano svolti fatti quella mattina loretta entrando nell'appartamento aveva chiesto a victoria perché lei e il suo fidanzato non avessero ancora pagato l'affitto mentendo la donna rispose che aveva perso la carta per le operazioni in banca e che avrebbe provveduto a breve nel frattempo blake era sbucato silenziosamente dalla loro camera e aveva assalito loretta gettandola a terra salendole sopra e soffocandola con una busta di plastica poi avevano messo il cadavere nelle borsone e il resto è storia nota nessun litigio né discussioni quindi ma un atto scriteriato e premeditato blake leg stava solamente aspettando un'occasione per eliminarle purtroppo quella mattina loretta gliela aveva concessa il loro piano era andarsene dal canada confidando nel fatto che la neve sotto la quale il borsone era nascosto si sarebbe sciolta dopo parecchi mesi e di conseguenza il corpo di loretta non sarebbe stato rinvenuto a breve le cose come abbiamo visto sono andati in modo molto diverso usare la sua auto e la sua carta di credito non è stato di certo un comportamento da geni del crimine gli emuli rimbambiti di boni e clyde finirono definitivamente in carcere per omicidio dopo due settimane dai fatti in attesa di un processo che si preannunciava alquanto scontato nell'aprile del 2016 victoria aneb si dichiarò colpevole di omicidio di secondo grado ergastolo con possibilità di libertà condizionata dopo dieci anni per lei blake leggett si dichiarò invece colpevole di omicidio di primo grado ergastolo anche per lui ma con possibilità di libertà condizionata dopo 25 anni pene anche troppo miti perché ha ucciso in modo spietato una giovane donna che dopo un passato problematico stava cercando di ricostruire la sua vita per giunta blake e victoria non hanno ucciso soltanto lei ma anche il bambino che portava in grembo un efferrato saluto a tutti voi cari miei questa è la zona oscura io sono marco e ciò che sto per raccontarvi non è né più né meno di ciò che vi racconto ogni settimana da un paio di anni a questa parte un caso di true crime scelto appositamente per voi prima di addentrarci nei meandri della sadica follia umana vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto piazzare un bel like preventivo e sedervi comodi con un bel bicchierino di grappa un amaro di fianco a voi lo so mi spiace ma io non sono un tipo da tazza di tè la storia di oggi ripercorre un po il classico canovaccio di lui lei e l'altra dove però l'altra è l'avvocato di lui mentre lei è la ex di lui e lui è sostanzialmente una gran testa di m***a ma andiamo per gradi siamo in oklahoma nello specifico a bex una città talmente piccola che non sembra nemmeno di essere negli stati uniti appena 1300 persone vivono da quelle parti ma c'è una scuola ci sono i servizi insomma non manca il necessario per vivere una vita tranquilla lontana dal caos delle grandi metropoli ma sappiamo bene che nessun posto neppure il più insospettabile è mai veramente tranquillo poco ad est di bex c'è la statale 75 e basta percorrerne alcuni chilometri per arrivare nei pressi di una casa di medie dimensioni circondata dal verde e dalla natura ed è proprio qui in questa apparentemente tranquilla dimora tra i boschi che il 7 settembre del 2019 un uomo di passaggio notò qualcosa di strano nei suoi paraggi e vide che la porta era spalancata dopo essersi preso un po di tempo per decidere se farsi gli affari suoi o dare un'occhiata si avvicinò la tenuta rendendosi conto che la porta più che spalancata era stata sfondata bussò più volte ma nessuno rispose così chiamò la polizia gli agenti accorsero e una volta giunti sul posto penetrarono all'interno della casa dove oltre a un enorme disordine trovarono anche dell'altro non uno ma ben tre cadaveri appartenevano a jack chandler 65 anni sua moglie evelyn chandler di 69 e dalla loro figlia 43 anni tiffany hiker tutti e tre erano stati uccisi con colpi d'arma da fuoco i chandler non erano una nuova conoscenza della polizia locale che altre volte si era recata in visita presso quella casa ma non perché non fossero brave persone anzi erano stati loro a chiamare gli agenti perché in passato erano accaduti dei fatti non propriamente piacevoli circa otto mesi prima del triplice omicidio i chandler contattarono la polizia perché avevano individuato qualcosa di strano sotto il portico di casa si trattava di polvere bianca e ovviamente il pensiero andò a qualcosa che nessuno di noi vorrebbe trovare davanti alla propria casa a meno che ovviamente non si abbiano particolari vizi in realtà la polizia dopo aver portato in laboratorio e fatto analizzare la polvere venne informata che si trattava di qualcosa di molto più innocuo zucchero a velo ma era stato impacchettato in modo da sembrare droga forse si era trattato di uno scherzo forse di qualcos'altro probabilmente qualcuno voleva intimidire la famiglia chandler o mandare dei segnali particolari magari proprio la stessa tiffany e visto il brutale omicidio dei tre componenti della famiglia avvenuto pochi mesi dopo non si poté che collegare i due eventi ma chi è che ce l'aveva tanto con loro chi sarebbe arrivato a spingersi fino a quel punto ed è qui che dobbiamo introdurre barry titus barry lavorava nel settore delle costruzioni non si sa di preciso cosa facesse ma è probabile che fosse per lo più un manovratore di gru nato in oklahoma e cresciuto poco lontano da oklahoma city aveva studiato l'università di everglandis salvo poi tornare nella città natale dedicarsi a diverse attività tra le quali anche la gestione di una ditta che si occupava di riparazioni auto fin qui nulla di strano se non fosse che nell'agosto del 2017 barry titus conobbe su tinder tiffany hiker i due si frequentarono per un po ma già dopo un mese barry era riuscito a riempire di botte la povera tiffany in diverse circostanze oltre ad introdurla all'uso di meth ed altre droghe dopo tre mesi tiffany si ritrovò in ospedale con alcune costole rotte una lacerazione al fegato e ferite su tutto il corpo purtroppo la donna si rifiutò sempre di denunciarlo nonostante fosse stata invitata dalla stessa polizia a farlo visto che la situazione era piuttosto evidente addirittura una volta successe anche in presenza di un testimone ma niente da fare le cose proseguirono così fino al maggio del 2018 quando finalmente dopo essere stata in terapia ed essersi rimessa in sesto tiffany tagliò definitivamente i rapporti con barry nell'ottobre del 2018 quindi qualche mese dopo che si erano definitivamente lasciati tiffany decise anche di denunciarlo per tutte le cose che le aveva fatto nel corso dei lunghi mesi nei quali erano stati insieme barry titus fu quindi arrestato e poi rilasciato in attesa di processo con l'accusa di percosse e maltrattamenti e come ogni persona arrestata incriminata di diversi reati l'uomo o presunto tale aveva bisogno di un avvocato che accettasse il complicatissimo compito di difenderlo di fronte alla legge e lo trovò poco fuori Oklahoma City uno studio legale di nome arrows law la cui proprietaria e principale esponente era tale keegan arrows barry le raccontò di tutte le nefandezze delle quali era accusato e la donna dovette trovarle particolarmente intriganti in quanto non si limitò ad accettarne il caso ma ben presto divenne anche la sua amante d'altronde chi potrebbe resistere al fascino del picchiatore seriale keegan arrows era nata nel texas rolet per la precisione prima di studiare leggi in Oklahoma aveva frequentato corsi di ingegneria elettrica e marketing la sua carriera nell'ambito legale era stata relativamente rapida da apprendista impiegata ad assistente dei difensori d'ufficio fino a divenire proprietaria di arrows law la sua società che dal 2014 si occupava di crimini in ambito familiare e finalmente nell'ottombre del 2018 a quanto pareva aveva trovato anche l'amore della sua vita in quel cliente arrivato a bussare la sua porta in quello stesso anno ovviamente i due dovettero tenere la loro relazione segreta in quanto la legge statunitense parla chiaro un avvocato non può avere relazioni di tipo sessuale con un cliente a meno che quella stessa relazione non sia iniziata prima nel rapporto professionale in pratica una donna potrebbe difendere il suo compagno ma non può trasformare un cliente nel suo compagno quindi la sagace keegan per difendere barry mise a rischio la sua carriera ma evidentemente per lei doveva valerne la pena e questo è soltanto l'inizio facciamo quindi un salto temporale fino a giugno 2019 un paio di mesi prima che i corpi di tiffany hiker e dei suoi genitori venissero ritrovati nella loro abitazione in quel media tiffany ottenne un ordine restrittivo nei confronti di barry per tutte le violenze subite in passato l'avvocato keegan harrow si diede molto da fare per difendere il suo assistito nonché amante forse anche marito visto che si volciferà che i due si fossero sposati in gran segreto comunque keegan assunse un investigatore privato per seguire tiffany in giro e scoprire magari qualcosa che potesse aiutare lei e il suo assistito nella causa in corso arriviamo così a settembre del 2019 con i tre omicidi e con le indagini della polizia che ovviamente iniziarono subito dopo il ritrovamento dei cadaveri tutti i vicini parlarono bene dei coniudi cender e della loro figlia persone tranquille che non avevano mai dato alcun problema la prima cosa che saltò all'occhio degli inquirenti fu che non vi era corrente all'interno dell'abitazione vi erano però delle telecamere a circuito chiuso e una volta che la polizia poteva accedere ai contenuti trova qualcosa di molto interessante il giorno dell'omicidio alle tre di notte un'auto di colore scuro era arrivata presto la residenza dei chandler ed aveva parcheggiato di fronte alla casa ne erano scese due persone una decisamente più alta dell'altra i due avevano tagliato le linee elettriche del telefono poi avevano fatto irruzione all'interno della casa ciò che accade dentro non fu ovviamente ripreso ma in base alle ricostruzioni fu jack chandler il primo ad essere ucciso poi sua moglie evelyn che si era nascosta in un armadio la tiffany hiker il presumibile principale obiettivo della spedizione era andata peggio l'avevano torturata per diversi minuti prima di uccidere anche lei poi gli assassini erano risaliti in auto e se ne erano andati da lì lasciando sangue e morte dietro di loro negli archivi della polizia come detto quell'abitazione e quella famiglia erano già presenti per via della denuncia risalente ad otto mesi prima quando della polvere bianca era stata ritrovata sotto il portico di casa quella storia venne ovviamente riaperta in quanto il collegamento con gli omicidi del 7 settembre era abbastanza semplice e sebbene potesse trattarsi di una combinazione gli inquirenti erano convinti che i due fatti avessero la stessa matrice e spuntò un nome José Ribey si presentò spontaneamente alla polizia affermando di essere stato lui a posizionare la finta droga davanti a casa Chandler rilasciò dichiarazioni spontanee perché lui era effettivamente nei guai per questioni di droga vera questa volta e sperava che fornendo queste informazioni la sua situazione si sarebbe potuta alleggerire ovviamente la notizia più interessante che gli inquirenti ricevettero fu il nome di chi gli aveva detto di lasciare quella polvere bianca in quel preciso luogo visto che José Ribey non conosceva minimamente Chandler né Tiffany Eichor. Indovinate un po' era stato il suo avvocato o meglio avvocata tale Keegan Harris che abbiamo avuto modo di conoscere qualche minuto fa. Passarono sei giorni dagli omicidi e la donna fu arrestata con l'accusa di intimidazione di testimoni ricordiamo infatti che Tiffany Eichor era in causa con l'ex compagno per le percosse subite e quello della finta droga era stato chiaramente un segnale per lei. La cauzione fu fissata in un milione di dollari ma questa procedura riguardava esclusivamente la storia della polvere bianca. A Keegan Harris per il momento non vennero fatti addebiti in relazione al triplice omicidio. Nello stesso tempo la polizia ricevette una chiamata dal fratello di Keegan che viveva in Texas. L'uomo sostiene che era in possesso di quella che lui credeva fosse stata l'arma usata per uccidere Tiffany e i suoi genitori, una R-15 di proprietà di Barry Titus e Keegan Harris. L'uomo non disse come ne era entrato in possesso, se loro stessi glielo avessero consegnato o lo avesse ottenuto in altro modo. Fatto sta che consegnò l'arma alla polizia e le analisi su di essa confermarono una piena compatibilità con i bossoli ritrovati in casa Chandler quella notte. In aggiunta a questo, dopo l'arresto di Keegan Harris vennero rivalutate anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso alle quali ho accennato in precedenza. Vi avevo detto di un'auto di colore scuro dalla quale erano uscite due persone, quelle che poi avevano ucciso Tiffany e i suoi genitori. Ebbene, era identica all'auto dell'avvocatessa, una Lexus di colore scuro del 2010. Non è tutto, visto che avrete capito che abbiamo a che fare con dei veri geni del crimine, non vi stupirà che per terra, vicino a dove era stata parcheggiata l'auto, venne ritrovato un cappello da baseball. Fu ovviamente analizzato e i residui di DNA presente su di esso individuarono, direi incredibilmente, Barry Titus. Ascoltati sulla vicenda, sia Barry che Keegan negarono fermamente ogni loro coinvolgimento, affermando che si trovavano in Texas quel giorno. Vi erano rimasti, a detta loro, dal 6 al 10 settembre. Le parole però non poterono cancellare i fatti, ai quali si aggiunse anche un match perfetto tra un'impronta ritrovata sul prato di fronte all'abitazione dei Chandler e uno stivale appartenente a Keegan Harris rinvenuto durante una perquisizione. Nell'aprile del 2021 i due vennero accusati di triplice omicidio premeditato e si dichiararono non colpevoli. L'anno successivo, aprile 2022, i procuratori annunciarono che avrebbero richiesto la pena di morte per i due amanti assassini. Questo ovviamente perché in Oklahoma è prevista, ma anche per delle aggravanti. Nello specifico, le torture inflitte a Tiffany Eichor prima della sua morte. Ad oggi non si sa ancora quale sarà la data del processo. Le ultime news sono appunto di aprile. Si tratta dunque di un caso ancora aperto, ma visti tutti gli elementi raccolti e dei quali vi ho parlato, credo sarà molto difficile che possano saltare fuori grosse sorprese. E questo anche se Keegan Harris si trovasse un buon avvocato, dal quale magari imparare qualcosa. L'unico dubbio sarà vedere se i due verranno effettivamente condannati a morte, oppure al carcere a vita senza concessioni di sorta. E per la brutta e rocambolesca storia di oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino in fondo e come al solito vi do appuntamento ai prossimi video, sperando di ritrovarvi da queste parti. Quindi restate in zona.